Eccola l'esultanza per l'attesa prima vittoria di Ciuccarelli sulla panchina dell'Ellera. A pagarne le spese dopo due pareggi di Biancazzurri e il Sanzisto dell'amico Valentini in una sfida tra le luse, i padroni di casa al Fioroni si mostrano sempre in controllo in una partita che di occasioni ne offre poche e con cinismo guadagnano tre punti importanti in classifica. L'Ellera deve fare a meno di Boldrini e Passeri non portandoli neanche in panchina, mentre il Sanzisto recupera l'esperto Taccucci in difesa. I tifosi, giunti numerosi, scoprono un Colombi stato di grazia che con un gol ed un assist si rivela l'uomo decisivo. Alla prima occasione del match incorna su cross di Lavano, ottima la risposta di De Marco, ma l'attaccante lesto ribatte del rete, si arriva intorno alla mezz'ora e Polidori finisce a terra in area dopo un contatto con Taccucci. L'Ellera reclama il calcio di rigore, il pespino di Barletta, è tutto regolare. Al trentunesimo Colombi cerca la porta da punizione, la deviazione e la batteria lo aiuta, ma De Marco questa volta distendendosi dice no. Suo ribaltamento di fronte arriva quella che è praticamente l'unica palla a gol del Sanzisto. I Senai, che si è portato sulla sinistra, avanza e va al cross, colpisce di testa russo sfidando soltanto il pareggio. Le due squadre tornano in campo con più cattività e voglia di attaccare dopo una prima frazione a lunghi tratti sopporifera. Si spegne dopo pochi minuti, però la spinta offensiva ha tranne vantaggio e l'Ellera che al ventottesimo da doppia. Un'azione tutta da gustare quella di Colombi che sfonda dalla destra e semina il panico nella difesa ospite, prima di appoggiare per Ricci, che allarghi il piattone e batte De Marco. Al ventitresimo c'è il debutto stagionale di Pettinelli, ma la sfortuna non sembra abbandonarlo. Dopo solo un quarto d'ora, disperato, è costretto a lasciare nuovamente il campo e la sua reazione non lascia presagire nulla di positivo. Gli ospiti nel finale provano ad aprirla, ma con troppa poca convinzione per riuscire a concretizzare qualcosa. Il Sanzisto entra nelle sabbie mobili della zona play-out. L'Ellera può prendere un po' di fiato con una classifica, ancora però insufficiente per le aspettative della stagione. L'Ellera ancora ha 17 punti, ne deve fare altri, non le faccio al volo, ma deve arrivare intanto a 43-44 punti perché il campionato è difficilissimo. In questo momento i ragazzi si stanno applicando bene e credo anche prima, sono sicuro anche prima. Stiamo cercando passo dopo passo di ottenere più punti possibili. Anche oggi è stata una partita tosta contro una squadra tosta. Abbiamo vinto, siamo contenti, ma già da stasera dobbiamo pensare alla prossima partita perché incontreremo ogni domenica una squadra tosta e noi dobbiamo essere ancora più tosti. Pettinelli come sta? Pettinelli si è rifatto male, non lo so come sta, però è dovuto uscire subito. Il problema è sempre uguale, dunque questa è una cosa da vedere, valutare, capire soprattutto. Quando perdi, adesso a mente fredda faremo le nostre valutazioni, però ai ragazzi non posso rimproverare nulla. La cattiveria ce la mettono, secondo me abbiamo fatto abbastanza bene, solo che abbiamo preso un gol che era sicuramente evitabile e poi dopo la partita si complica perché con una squadra così di grande qualità che va in vantaggio poi dopo diventa tutto un po' più difficile. La squadra ha fatto quello che avevamo deciso e provato di fare in settimana, sicuramente negli ultimi 20 metri dobbiamo attaccare meglio la porta perché credo che abbiamo tirato due volte da 30 metri e penso che una squadra se vuole vincere, se vuole portare a casa un risultato positivo, se vuole rimontare un risultato perché sta perdendo deve tirare in porta perché questo giochino, poi la finalizzazione è far gol e tirare in porta, quindi se non ti rimporta non segni, quindi la classifica la guardo ma non è che sono preoccupato, sono realista. È un campionato difficile, equilibrato, dove ogni partita bisogna guadagnarsi i punti sul campo, non c'è una squadra che è facile da affrontare, noi dobbiamo affrontarle tutte come se fossero, non so, mancano 20 partite, 20 finali e quindi andiamo avanti guardando la classifica con occhio solo perché magari in questo momento ci può creare qualche turbativa. Grazie a tutti.